Il lavoro qualsiasi, il lavoro che vorrei, il lavoro che non ho. Questo è il titolo della tavola rotonda che si è svolta il 7 marzo al Cinema Classico di Torino in occasione della Festa della Donna. La consulta femminile regionale, con la consigliera di parità e l'assessorato alle pari opportunità della regione, ha organizzato un dibattito sul lavoro femminile, alternato alla proiezione di brevi spezzoni di sette film sull'argomento. Una giornata importante, quella che precede l'8 marzo, tantissime iniziative, molte iniziative nei comuni grandi e piccoli del Piemonte, debbo dire una giornata significativa anche domenica scorsa, tantissime donne si sono trovate in piazza. Il messaggio importante è stato quello della prevenzione, il messaggio che passerà questa sera in questa sala sarà quello legato al lavoro, all'occupazione, ai tanti successi che le donne hanno ottenuto in questi anni. momenti di fatica, ma debbo dire anche momenti di gioia e di soddisfazione, che si lasciano in eredità alle giovani generazioni.